Popolo dei Lopardi, eccoci di nuovo qua Fortunatamente a festeggiare una vittoria casalinga Col punteggio di 70-56 Questa sera con noi Albi, Alberto Benedicenti Che è protagonista di una stagione in grandissimo crescendo Albi, come ti senti? Come stanno andando queste ultime partite? Mi sento molto bene Un gruppo squadra molto unito Soprattutto negli ultimi tempi ci stiamo unendo molto Ci stiamo allenando bene I risultati infatti si stanno vedendo Soprattutto dopo la partita di Arona Siamo tornati in palestra con la voglia di migliorare ancora di più E vincere, vincere Un passo alla volta, una partita dopo l'altra Assolutamente sì Due parole su questa gara invece Un inizio un po' in fatica Soprattutto al primo tempo Poi al terzo o quarto abbiamo ricominciato soprattutto a segnare Un inizio sottotono, percentuali basse Nel primo tempo, nel secondo tempo Abbiamo preso il ritmo della difesa E le cose sono venute Un passo alla volta sempre Gli mancano le parole Un po' emozionato La prima volta di fronte alla telecamera Ultimissima domanda Due punti per Non è neanche detto Ma due punti per la matematica promozione in C-Gold Come vivrete come squadra le prossime due settimane? Perché una riposeremo E poi avremo San Mauro in casa Ma come sempre Dall'inizio della stagione Ci siamo fissati di guardare una partita alla volta Senza guardare troppo in là E quindi si vedrà Se passeremo il turno in cui staremo fermi O la prossima partita Ottimo Ottimo Grazie mille Albi Noi incrociamo le dita Speriamo che tutto vada per il meglio Soprattutto per arrivare a carichi A quella che sarebbe Una vera e propria sfida Con Arona E ci auguriamo Che sia veramente valida Come tutti se lo aspettano Popolo dei Leopardi Come sempre Grazie per averci seguito E Leopardi Pride Grazie a tutti